Salve i campani come era, sono Zrax e questo nuovo video su Polo 2 e quest'oggi la seconda partita contro i umani i Yves e i Smaseker che tante volte abbiamo cioè abbiamo l'ultima partita che abbiamo fatto nella stessa settimana non so se ne è no no sono già forti perché non è ho fatto una chazzata pazzesca ma quando è fuori a prendermi la star, dov'è, dov'è, dov'è ok, vabbè ho preso c'è il ruido, ti devi cominciare a tipo un mio giocatore va in knockout riesco a riazzarsi allora vediamo allora non c'è tutto questo oggi non c'è tutto non c'è ness non si può dire, non vincere vincere non vincere vincere, non vincere vincere questo è un po' spesso ok l'altra volta mi ricordo bene se si avevo no era di Chaos che avevo il mio Tauro che avevo importante il mio Tauro qua giocheremo come l'altra volta useremo il nostro Goblin e andrà oppure userò il Quaterver con il Blitzer vi ricordo che l'altra volta abbiamo comprato il ah siamo a casa loro Under Huns Under Huns oh eccoci qua testa morta cominciamo subito vediamo cosa ti prego fai cominciamo noi cos'abbiamo tu cos'abbiamo Tutsdown cominciano come l'ho detto cominciano loro c'è casa loro cominciano loro e ehm sono adattabili e tasti ma non si può sempre specializzare nel gradino che hai ma ti prego cos'è questo è quello che è infortunato ma pericolo il gioco che non lo so neppure io lo facciamo qua e Gromin quello è infortunato quello è stato da me oh ma non cos'è è uno qua Goblin è l'altro qua vediamo cosa fanno loro cazzo uno sei io c'ho uno sono merda ma anche loro non è infortuna uff la vedo brutta le proprietà che abbiamo 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 dieci fan ah ah sulla linea vedo messa eh sulla linea adesso subito cominciamo va bene come volete voi ah la Totti ci hanno ammazzato il nostro gioco che non è riuscito ad arrivare fino a livello 4 da 4 da 4 di livello cioè di esperienza ecco così lo mettiamo cosa qua guardia membro a lancio cioè può lanciare un suo compagno questo eh che va a prendare questo qua questo tutto quello che ha tipo ti prevedo anche quello che ha Tickle manca 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 è quello che ha Tickle anche Stilbar quindi perfetto è una zona aia uff spinta perfetto che cosa fanno altri aia mindblow rischio che anche questo qua va uff per fortuna niente non è stesso niente va male quanto l'ha fatto due aia no 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 rischio qua rischio rischio uff niente stunnato eeeh alzati eeeh alzati vediamo se esco cazzo no uff cioè io non volevo andarci non per dire vediamo se ma come sempre una porca 3 boff il nostro via se che di te spostiamola eeeh eeeh spostiamola eeeh uno così eeeh eeeh uno qua cosa posso rompio mmmh un golpe in qua penso che ci mettiamo in difensiva così non voglio non sono problemi eeeh uno carissimo aspetta aspetta troia no 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 userò basta è finito no merda questo eeeh eeeh dove va il nostro crescere amico a di là quindi abbiamo possibilità subito di rubargli la palla se eeeh in caso si abbiamo possibilità di prendere la palla cosa cosa sarò seeeh non è niente poi no non è niente ero uno wow dai ci vuole un pochetto dai ti prego piccolo ah e porca trova anche il bit beh infortunato infortunato stand up questo qua se la fa questo vai là si lo seguiamo ce ne hai due ma come mmm vabbè vediamo se riusciamo a ok ok porca troia no questa oh perfetto eeeh no sto qua ti prego fa di male ma mamma mia eeeh viciniamoci c'è c'è andato questo va cazzo vediamo se riusciamo a difendere come possiamo proprio paio dietro ci ho fatto un catt… eh uno due L'unità, la sua fortuna! I fanci sono rapidi, e così mi sono. Un altro passo! Quanto ha fatto? Quanto ha fatto? Sette. Quanto era maturo? Nove. Quanto ha fatto? 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 Perfetto. Deve prendere da sei schivate, questo qua. Eh, lo sapevo. Oh! In testa Oh, stonato Ok, te vai Me lo so Perfetto Un fortugno, cazzo Un fortugno, così Oh, eccolo qua Dai Ma porca troia, uno Non l'ha scrivata Posso tranquillamente Sparta civile Quello per terra Per fortuna E per terra Ok, uno è andato Quale Che applico Questa Depend Questa Boh Un gesto Spostiamolo No Questa S schedules Poi mettere la pressione sul carriera! Voi più veloce! Perfetto! SPRING FORTUNIO! Cioè hai anche abilità di schivare? Questo potrebbe essere divertido. Especialmente se un giocatore si trova. Torno indietro per sicurezza. Non voglio avere rischi con questo qua. Merda! Aspetta mettono un pochino, boh, finiamo il turno. Adesso ho paura che ci... Si schiva qua. Perché mi facciamo passare... Ah merda! Non si alza più. Vediamo cosa fanno a sto questo amichetto. Spinto? Dove? Vediamo cosa fa in quell'altro. Spinta. Spinta. Non si alza più. Non si alza più. È un buon movimento. Trocato. Non si alza più. Oh. Non si alza più. Non si alza più. Ovviamente non si alza più. È un buon movimento. Ok. Per fortuna ci sono saluti Allora Non c'è nessuno che blocca Cazzo 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 Quanta corsa Mai più il becchiamo Mai più È andata Aspetta Perché c'è il Ah Merda dovevo usare i miei carissimi Goblin E cosa fanno Possono solo difendere adesso Possono solo difendere Ah rischioso la Come mettere Come mettere Avvicino Quota Ok perfetto Quadrato Perfetto Andiamo addietro Mazzello Prendi i pugni Andiamo Io ho cose Capò Merda Siamo messi in armi Cazzo è in testa Un'aquila Ok mettiamo questo capò Cavolo Cavolo Mi spiegò Mi spiegò No se ne esco Che è questo Sì Aspetta Aspetta Fai pensare Probabilmente Potrei fare Questo Da fuori Ma può anche Sì Andiamo qua Aspetta Fai pensare No se ne esco Non se ne esco Non se ne esco Non se ne esco Qua no Qua no Quindi mi metto qua Avvicino Uff Ma doppio Come non detto Possiamo usare Per loro Se ne esco Se ne esco Se ne esco Se ne esco Qua no No Qui sono un pari Non riesco Non riesco No Credo che mi fa notare Ci da Ti prego Fa che Così Ma Ti vuole Se ne esco Così avrebbe Così avrebbe Così avrebbe Così avrebbe Sì Merda 1-0 Per loro 1-0 1-0 Ho avvicinato Ho avvicinato 1-0 Ho avvicinato Allora Quattro 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 Sono Possiamo attaccarci Pure Staccano Da destra C'è Da sinistra Ah Beh la luce ha presa Quindi Difendiamo Spingeremo A sinistra E' da parla lui Va Ancora 6 A tutti due movimenti Quindi Ecco Sapevo Oh Sono spinta Ok Come si metto No Ok Ok No Si Non 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 Un'altra È Quattro Così si fa. Mind Blow funziona sempre. Ok. Difendiamo così. Vediamo se si prende. La prende perfettamente. Non si muove. Uh. Presa. Vediamo se si mette questa qua. Oh. Perfetto. No. Non ti seguo. Uff. Un almeno uno capò. Almeno uno. Come l'ho detto. No su una... Merda. Un numerone. Un'altra. Un'altra. Un'altra cosa. Questo qua forse, questo qua farà più giro oppure entra l'acqua. Questo sarà lui o lui che parte via, no, no. Ecco, come ho detto... Cominciamo bene. Oh, spinta. A sinistra. A destra. Ok, si è fatto un piccolo... Oh. Spinta. Ecco, il fortuna... no, ma dai! Ho la possibilità di scappare qua. Vediamo se possiamo fare male. Ho l'abilità in GoFund, quindi vado. Ok. Un'altra. 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 Soltosa. Così, scioghiamolo. Facciamo scappare. Allora vado a sparare questa Allora vado a scondare fino all'alto Allora vado a lanciare la palla la barcateria ok mi ha spinto un pochino ancora un pochino mi spinto, se mi spingo un pochino... ecco, mori non dovrebbe essere così, automaticamente ok, strontzo, te sta buono qua, ecco ma non c'era neppure non c'era qua non c'era qua non credo che finirà, che il tempo non ci siamo chiti e ha fatto di un... non c'era qua ma finiamo... come no? sta comune... oh fa che infortunio sia non c'era non è un po' più facile da finire la torre della pittura se il giocatore si è preso nella città beh... beh... dov'è accadere? nooo più di tempo Stiamo perdendo 1-0, non perdonato, 1 espulso, non dobbiamo fare il gol. Oddio, tocca a noi, tocca a noi. Sì, hanno giocato la balla per gli opponenti. Ora è ora di pensare difensivamente. Tutto a sinistra. Il goblin qua. Ok, andiamo. Spero che ti va bene questo qua. Dove la palla? Proprio tutte le mie spalle. Perfetto. Allora ci siamo messi già perfettamente. Noi. Sposatoti qua. Muoviamoci. Uff. Questo sarà decisivo. Penesia, portami via. Tutto va. Perfetto. L'intimidazione è la chiave. È stata una delle mie forti quando stavo giocando. Questo qua. Oh, perfetto. 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 Ok, fermaccio. Sempre se sta la storia. Uno qua. Un altro qua. Questa Minebro, guarda. Sì, seguiamolo. Minuto tre, ci ricordo che lui ha fatto touchdown anche. Ora, uno così. Ehm, te prendi la palla. Tu muoi qua. Uff. Ti prego. Ma, scusa, non potevo usare... Come l'ho detto. Come l'ho detto. E cosa fanno questi crescimi amichetti? Sì. Sì. Si metto così. Quindi ho la possibilità di fare touchdown subito al nono turno. Allora, decimo, unitesimo turno. Oppure no. Cinque. Eh, per fortuna, tutti hanno l'infortunato. Broward. E' sulla ora. Come un halfling o un hot dinner. Ecco. Fragile. Very fragile. Ok. Fragile qua e attacco questo. Vedrai che... Non, stop qua. Uff. Vai. Uno qua. E il quattro per qua. Difendiamo come possiamo. Un mindful come. Un momento. Hmmmm. Non. Un momento. Ha, non ci chiede un momento per questa serie. Non ci chiede da una delle facciole. Un momento, non ci chiede. Oh infortunio, perfetto. Ha usato, no? No ancora. Non so se posso usare così. Alla fine. Alla fine. Alla fine. Non so se niente. Spostiamo là. Non ci muoviamo. Ok. Ok. Ho due morti per loro. Ragazzi, possiamo arrivare? Ok. Ma troppo... ... più sette, cioè. Ok, perfetto. Sono spinta. Ma spunti, no? No. Così sta subito... No, non si avvicina? Peccato. Aia. Finisce mai il nostro Mogut nuovo, il giocatore. Perfetto. Niente. No. Niente particolare. Cosa sto facendo qua? Non lo so neppure io. Cosa stanno facendo questi qua? Eh... Tutti vicini a lui. Se il giocatore sia preso qui, si finirà nel pubblico. E in generale... ... i fanci... ... sono molto... ... afferminati... ... sulle persone. Uff. Si, uso dai. ... ... ... ... Non si può essere cominciato dalla città. Così, vediamo se riusciamo a chiudere senza andare fino là, nessuno, così, non ci sono 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 così. Sì, nella strada del campo, nella strada della famiglia, e si vedono freddiche. Quindi in questo devo mettere il capo. Ah, ecco. Questo è un derogato. Perfetto, è mica l'infortunio. Perfetto, è mica l'infortunio. Perfetto. Ah, smetto di muoverti io. Ok, finiamo. Turno. Ancora quello? No, lui non ha sprogato niente. Cioè, l'infortunio dei due giocatori... Ah, di là. Puffer, perfetto. Ok. No, non, non, non. Ok, me stavamo distinto. Questo è quello che ti viene a fare. Oh, io sono un'infortunio. Il giro del giro. Perfetto. Ok, si si cambiano. Uh, capo! Mamma mia. A tutto in piedi. E non so sicuro se... Vediamo se riusciamo a mettere il capo. Perfetto. Asseguiamolo. Ok, adesso... Vai da stati però. Anche il gol profitto. Vai! Touchdown! 1-0! No! Eh, 1-1! Perfetto. Uff! Eh, un espulso. Eh, peccato. Ehm... Ehm... Vediamo che adesso devo difendere di nuovo. No. Si, dobbiamo... Ok, mettiamo così. A loro manco dei giocatori. Si, pure a noi. Ok. Eh, fermiamo. Quindi andremo... Siamo 1-1. Abbiamo... Cosa pareggiamo in questa partita? Spero di non pareggiarla perchè non voglio di vincerla. Oh! Perfetto! No, non è perfetto. La palla vicino a loro. Cosa ha? Pfff! Cosa ha? Warp, sulfite. Cos'ho preso ancora? Presa. Stunt. Ti piu' che manca? Merda. E non so se... Ah, si, vicina a qua. Ok. Ok, via. Cosa possiamo fare? No, in questo momento. Siamo arrivati ragazzi, solo spinta, perfetto. Vediamo cosa fanno questi carissimi che hanno uno o due morti in una sostituzione quindi sono messi benissimo, peccato, potevamo fare meglio, metterò più forza, cazzo, oh perfetto, 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 cazzo, no, non è perfetto. Uh, non c'è scendente, tra loro ha fatto sette, si rialza, vediamo se riescono a andare fino qua, no, quindi andiamo qua, cambiamo ancora in questo qua, così ho un giocatore, perfetto, va di qua, e lo seguiamo perché questo, ti prego fa che sia fortunato, no, niente di fortunio, mettiamo qua, è il goblin che è vicino, un momento, tss, oh, perfetto, ma dai, cazzo, vediamo cosa fanno il nostro orco qua, mettiamo, blocchiamoli se riusciamo a fare, così, no, dolce, troppo pericolosa, quindi mettiamoci qua, vediamo se il nostro carissimo, lo mettiamo qua, lo mettiamo vicino a uno, così abbiamo, quanto mancano, lo mettiamo qua, così abbiamo possibilità, se questa si rialza, di anghellarlo ancora, questo torna in difesa, no, torna qua, ma come è possibile, non lo sta qua, tutto indietro, penso che questo sia un casino, fine turno, vediamo cosa fanno, forse riusciamo a, in qualche modo, metterlo, knock out, ah, merda no, ma tu lo sei, eh, capò, per fortuna capò, non tirerò il dato che, oh no, eh, ti prego, fa anche, eh, fa un culo, non puoi, in questo caso abbiamo la possibilità, no, metti, metti, metti qua, seguiamo, questo blocco, aspetta, mettiamo uno, qua, mezza, no, quel movimento, ah, aspetta, 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 adesso c'è la pressione, aspetta, aspetta, portami via, oh, mamma mia, quanto mi piace, questo rumore, gola, oh, 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 cazzo, vediamo se riusciamo, mettiamo uno qua, se può, se, così abbiamo, tre, quattro, andiamo, spreco, fare male, vorrei un cazzo, perfetto, perfetto, segno la palla, oh, 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 Che cazzo sono i miei goblin? Opa Oh, perfetto Ecco, uno in crowd Ma porca dobbiamo Prima che stava peccando Spero che fai che sia buona Andiamo Mmm, no, boh Quanto mi sto vincendo quel coso? Sì, ci arrivo Vedo che ci arrivo, prende la palla E fare un 300 touchdown Che sarà Una cosa più meglio Riuscita in questo tempo Ti prego, fai che scegno Ecco Bravo Ci stai qua Ma la parola Uniti è una fortuna Uniti è una fortuna Spiego, vai! Vediamo se abbeccarlo. Ok. Oh, vediamo. Si, è stato tutto uno qua, finito. Allora, è sicuro. Può l'altra squadra tirarlo? Ok. Vediamo se lasciamo circa a posto qua. Capo a un altro. Perfetto. Ehm, questo. Qua. Vediamo come si è scoperto. Come ho detto. Oh, questo è nato. Boh. C'è io fino a là io. Perfetto. Vediamo che ho mettero fino a là io. Perfetto uno. Perfetto. Merda, non ci arrivo. Non ci arrivo. Oppure. Perfetto. 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 Oh merda non c'è niente, non c'è niente cosa possiamo fare. Ok. Eh c'è qualcuno là. OK. Merda. Mi sape che fessi parec, non è come sta partita di merda. Mamma mia Pessima è finita 31 Metterò movimento per lui Ma è più movimento così Ho l'opo 7 Spinta Ma perché ho fastidio? Cioè non Ma vincere questa partita Mi sono altro fregato perché ho Credo Tu mi occupi perché no Uff E' anche un infortunato mio? Che sono infortunati? No Ma c'è nessuno Non è infortunato? Uff Ma mi è sto rumore di Vediamo cosa fare E' finita 1-1 Speriamo di non fare un'altra partita Un'altra stagione Pareggio Quattro pregi Quattro pregi Consecutivi 11 6000 Eh Meno 1 Siamo sempre a 7 Chiedercito di più Sì Sì Ma che è questo qua? Mamma mia Ok Ok Siamo ben paraggiato Tutto 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 Allora Blocco Astri Ball Take Oh Forza Multi blocco Ehm Juggernaut Allora Da quello che ho capito per la росine C'è Duto qualcosa Dove è finito? Questo qua No Dove C'avevo scritto Non so da che parte, forza, Juggernaut, Stalfilme, Boom, Grab, Crotito, Crotito, take care of this principle, Fend Raster, Flexibilità 3, Blocco, Buster, Blocco, Questo ci servirebbe tanto, Oppure, take care, Sono take care, O guardia, Perché lui è il suo guardia, DT player, Guardia non matura, Non so sicuro cosa dargli, Questo è prima, Caratteristica P1, Non mi interessa, Agilità, Pro, Non so sicuro, Si parla, Aumentiamo l'agilità, Anche se rischioso, Non so sicuro, Non so sicuro, Non so sicuro, Ma che cosa faccia, Hai visto che hai un club fan? Hai guardato, Jim? C'è una peticione per evitare te da l'aria. Gli giovani hanno pareggiato Quindi... Si hanno pareggiato anche Chaos Quindi siamo ancora a premio Oh mio dio, 1700! Oh mio dio, Chaos Come hanno pareggiati sull'ATF? 3 a 2 Hanno vinto il bronze Quindi... Quanti cat? 1700, borgato Questi qua si abbiamo pareggiato Oh mio dio Ah merda Oh mio sono fortissimi Bene E' il prossimo punto dei nani che hanno meno di 9.420 Team Ah più uno forza Ah mi hanno preso anche loro Questo dovrebbe essere espulso Poi Sono un erro Taker, Taker, Taker Bene Guarda questo Oggi Il resto è morto ancora a primi Quindi abbiamo ancora possibilità Se mi c'è contro i nani Che la vedo brutta Andiamo avanti E E riusciremo Probabilmente a vincere Questo cazzo di Incompetizione Sto Merda Vabbè Al prossimo video Ciao 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 Ciao